Cristian De Sica presto nonno di una niputina, chiamerà Bianca, non vedo l'ora di conoscerla. Cristian De Sica ha raccontato tutta l'emozione di diventare nonno e di condividere questo grande traguardo al settimanale gente. E' il Natale più dolce in casa di Cristian De Sica perché sua figlia Maria Rosa sta per diventare mamma di Bianca. E l'attore, protagonista dell'ultima commedia Netflix Natale a tutti i costi, rivela a gente, non vedo l'ora di conoscerla Maria Rosa, 35 anni, e al settimo mese di gravidanza e tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo nascerà la piccola. Cristian De Sica ha raccontato tutta l'emozione di diventare nonno e di condividere questo grande traguardo. Non vedo l'ora di conoscerla. Vorrei insegnarle a sentirsi libera di cercare la sua strada e di seguire il suo cuore. Sono felice per mia figlia Maria Rosa e per la nostra famiglia. Mi fa un po' effetto l'idea di diventare un nunnetto. Ma è giusto così. Penso che la mia esistenza e la famiglia, delle quali sono grato e ringrazio il Signore ogni mattina appena apro gli occhi, si stanno arricchendo. Sento che la vita va avanti, che ciò che ho seminato e coltivato continuerà anche attraverso Bianca. Io amo i bambini, sono bravissimo con loro. Lo sono stato anche con Brando e Maria Rosa, ho fatto insieme a loro tutto quello che non ho potuto fare con mio padre Vittorio quando ero piccolo. Anche Maria Rosa De Sica ha parlato al settimanale Gente raccontando quelle che sono le sue impressioni, si chiamerà Bianca. È uno dei nomi che mia mamma avrebbe voluto dare a me. Mi è sempre piaciuto e per questo l'ho scelto per mia figlia. che nascerà tra fine febbraio e inizio marzo. Finora ho avuto una gravidanza meravigliosa. Sono ancora più sensibile del solito e vivo amplificata ogni emozione. Sono al settimo mese e il pancione inizia a essere bello pronunciato e mi rendo conto di affaticarmi in fretta. Ma l'entusiasmo per l'esperienza che vivo mi sta facendo affrontare al meglio anche questi ultimi mesi.